hello this is my new bag rocco barocco ciao questa è la mia nuova borsa rocco barocco i buy it at miriade in il centro shop in arese questa l'ho presa presso il centro di arese 59,90 mi piace un casino perché mi piace il verde acqua penso che si sia capito apriamoli qua così basta che riesca ad aprire la bellissima tracolla si perché qui comunque già attaccata quindi non si può staccare ma va bene va bene stessa basta che riesca a tenere aperto mettiamo un po questo perché se non riesco a fare l'interno abbiamo due spazi e metto il cellulare e le chiavi e qua abbiamo un altro spazio non c'è la zippe però diciamo che va bene lo stesso anche perché poi comunque con la patta qua si chiude e prima di aprire ci vuole un po nel senso che uno deve andare a trovare il bottoncino infatti non mi ricordavo neanche io che ci fosse il bottoncino per la serie l'ho presa e non mi ricordo un cacchio più che normale in questo periodo sono scordarella e con questo vi saluto ciao a tutti see you next time ok 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 ok